Qual è la ragione politica? Non può farlo, non c'è efficienza di andare all'intera. In caso di ciò, ritorniamo a che cosa è successo. C'è un sottotato, la parte della guardia, la navi di Giorgio e la navi della guardia. Adesso lo faccio giù perché costate. Ma diciamo, dopo questa pandemia, la richiede della patria, come sa, è il dovere dell'uscita. Il precedente sul quale noi vi dito il voto, vi dito altri, ho sentito parlare di primato e della politica. Ho sentito parlare del fatto che i porti, i porti, i porti, i porti, allora è giusto.